Riccardo Trellini, il modo migliore per chiudere per quest'anno l'avventura col campus qui a Chiedi? Sì, in realtà noi non giochiamo in casa perché se non vengono i genitori non abbiamo un tifo. Ma sul nostro campo giochiamo bene perché troppe volte i ragazzi sono giovani quando vanno in trasferta che bastano due trombette di troppo si spaventano e oggi invece devono capire che sono forti, che non c'è da averci paura e devono avere un'autostima migliore in maniera da soccombere a quei momenti che non va bene. Oggi è stato bellissimo perché è andato tutto bene. Per un allenatore vedere questo livello di gioco dopo tanto lavoro settimanale, ma non è settimanale, di tutto l'anno, è una grande soddisfazione. Poi unita anche al fatto che quando riesco a far ruotare tutti e tutti e sedici giocatori possono entrare nella vittoria, è una grande cosa. Tredici giocatori in rete quest'oggi, questo fa capire proprio quello che dicevi tu delle tante rotazioni e del valore di questo gruppo. Sì, questo gruppo ha questa forza che ha tre giocatori per ruolo che si equivalgono quasi tutti quanti. Noi obiettivamente giochiamo in una certa maniera, corale, diamo molta continuità ai passaggi, molte volte i passaggi non riescono bene, però quando riescono come oggi sono tutti pericolosi. Per cui viene fuori che 13 ragazzi che vanno a rete vuol dire che sono forti e che c'è un buon gioco. Gullino, non è stata una delle migliori partite per l'Enno in questa stagione, c'è da dire però che l'Enno ha giocato un grosso giugno di ritorno tirandosi fuori da situazioni classifiche non bellissime nel giugno di andata. Ha raggiunto questa salvezza da un paio di settimane, forse un po' si è rilassata in questi ultimi turni. Forse un po' troppo, visto gli ultimi risultati. Sì, in effetti dopo aver raggiunto la salvezza abbiamo mostrato leggerezza mentale e l'abbiamo pagata a caro prezzo. Oggi proprio ci poteva stare anche di perdere con una squadra in netta crescita, però la prestazione non me l'aspettavo così negativa, l'approccio è stato uno dei più brutti che abbiamo fatto in questo campionato. Poi abbiamo cercato di rientrare, per certi versi ci siamo riusciti, siamo arrivati a meno tre con la palla del meno due, ma è quasi come se non ci credessimo nemmeno noi. Loro hanno potuto con i continui campi tenere sempre un ritmo altissimo e poi sai quando sbagli continuamente noi abbiamo sbagliato una merida di tiri dai 6 metri e loro continuavano invece sempre ad andare come dei treni da un punto di vista atletico. Questo poi ha pesato soprattutto sulla psiche, poi molli completamente e vengono fuori questi risultati che non sono il massimo neanche per una squadra che molla dopo aver raggiunto l'obiettivo principale. Il campionato particolare è quello di Serie A Silver perché salvezza vuol dire giocarsi la promozione in Serie A Gold perché ci sono i play-off. Sì, in effetti è così perché poi alla fine fai questa prestazione, ottieni questi risultati negativi, ma i play-off sono un turno all'otto. Ti vai a giocare una partita ti va bene, ti trovi in paradiso. Vedremo un attimino come saranno gli accoppiamenti e poi vedremo come andranno le partite. Sicuramente non ci sarà nessuna partita che sarà scontata nel risultato e io sono convinto che qualche sorpresa ci sarà. Ci proveremo a toglierci qualche soddisfazione dei play-off, come hai detto tu, però ci teniamo anche a non sfigurare. Queste prestazioni di oggi non sono prestazioni assolutamente accettabili da parte di una squadra che si è qualificata ai play-off. Però merito al campus che oggi ha fatto una buona partita, non dico un'ottima perché non è stata tanto bella da vedere, però sì, buona partita da parte del campus, una pessima prestazione da parte nostra, complimenti agli avversari e noi ci dobbiamo leccare solo le ferite. Che cosa è cambiato in questo NLG di ritorno? Non saprei, forse la stanchezza, comunque sempre un anno, sempre gli stessi a giocare, magari forse è questo, magari si è abbassata la concentrazione, non lo so. Dovremmo riuscire a capire qual è il problema in settimana per evitare di fare altre partite come questo. Con che prospettiva è andata a questi play-off? La prospettiva è quella di fare il meglio possibile, magari non si sa se saliamo, però magari non sfigurare come oggi. Sicuramente è stata una vittoria che ci voleva, anche dopo le due partite che abbiamo avuto contro Romagna e Palermo, dove abbiamo perso male. Questa partita serviva appunto per tirare di nuovo sul morale della squadra e sono felice di come siamo entrati in campo, con la testa, con la voglia di vincere e sin da subito abbiamo saputo far vedere chi siamo agli avversari. Tante le rotazioni nell'arco dei 60 minuti, hanno trovato spazio un po' tutti i giocatori, tutti i tuoi compagni, non solo tu, è l'intesa, quindi cresce sempre di più in questo gruppo. Certamente, anche perché questo campus serve anche per la nazionale. È fatto apposta anche per far giocare tutti i giocatori e per dare spazio a tutti quanti per poter dimostrare che possono stare in campo.